il cristianesimo o è attesa vigile insonne e pregustazione della vita beata in dio oppure è oppio una droga che calma e annebbia la mente e i sentimenti fino ad addormentarci al capitolo 13 di marco leggiamo state attenti vegliate perché non sapete quando sarà il momento preciso perché il padrone di casa non giunga all'improvviso trovandovi addormentati ma noi siamo dei risvegliati risvegliati dalla parola di dio dalla promessa fatta ai nostri padri dalla chiesa che con i suoi segni sacramentali non smette di seminare nel mondo testimoni e noi semina il desiderio di dio e nella preghiera ci fa pregustare il paradiso papa francesco in frate somnes scrive dio infatti continua a seminare nell'umanità semi di bene la recente pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti compagni e compagni di viaggio anche nella paura perché nessuno si salva da solo e nella fede questa attesa durante la notte scrive carlo carretto questo non preparare piani questo scrutare il cielo questo far silenzio è la cosa più interessante che compete a noi a noi cristiani spetta saper ascoltare il comando del padrone di casa dello sposo che arriverà e ci attende alla porta quindi pregare senza stancarsi ad occhi bene aperti perché sappiamo che la notte finirà ma ancora l'alba non è arrivata e se tornasse all'improvviso nel buglio dobbiamo riconoscerlo e aprirgli la sua casa perché trovi riparo insieme a noi vigilare quindi è la parola della chiesa per noi in questa prima domenica di avvento